Sono le Black Lion? Sì Porca Eva, sono costose Sono costose È un po' Vabbè, sono chiuse ancora Sono ancora chiuse Sono quelle nere, vero? Sì Ok, sono le uniche che avevo chiuse Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video Allora, dato il successo dell'anno scorso Dell'indovina mazzo challenge Oggi ripeterò il secondo episodio Anche perché è una cosa figa da fare E volevo farla di nuovo Come l'anno scorso io verrò bendato In questo caso userò la sciarpa di corvo nero Come potete vedere La sciarpa di corvo nero Quindi io mi benderò E tu hai preso dieci mazzi di carte Di cui tre chiusi Ok, speriamo che nuora che sei preso mazzi costosi Tu mi darai i mazzi di carte E dovrò provare ad indovinarli Se non ne indovino cinque Dovrò fare qualcosa, non lo so Qualunque cosa Ok O magari una sfida che decidete voi Poi nei commenti Da fare in un altro daily vlog Però intanto do provare a fare questa roba Mi bendo Sai di fatto che non si vede una mazza Eh, aspetta Doppio giro Doppio giro Eh, ma così come faccio? Ok, ci sono D'attacco che non respiro Ok, tu mostra in camera E poi Dov'è? Eccolo qua Vai Ok, ci siamo Io ci sono Ma non ho capelli strani, no? Mazzo aperto? Sì Ah, ok Knock Sì Eh, vabbè L'apertura di qua Zio Sì Questa è la Sì Questa è la 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 Allora sono rosse No, aspetta Sì, sono nere Sono nere? Sì, sì, sì Perché queste sono massacrate Sono nere Sicuramente Boh, questa era facile Raga Questa era facile Dai, un punto bonus Sì, vai Eccole qua Queste? Sì Oh Scatolina in rilievo Eh Non lo so Non ne ho idea In elaborazione Tela Sì, sì Le carte sono di che Wow, queste scorrono bene Aspetta Eh L'ho già sentito Aspetta Sono verdi Sul retro Sì Sono verdi? Sì Non tutte verdi però No Allora sono le jungle Sì Sono le jungle? Yes L'ho riconosciuto Dalla scatolina È stra bella questa Le jungle La scatolina è colorata Le carte sono verdi Sì, sì Yes Vai Ti mostro Eccola Qua? Questo? Questa c'è ancora la pellicola Sì Quindi vuol dire che è importante È un bel mazzo È un bel mazzo Madonna quante carte sono Nuove di stecca queste Sì Quello è sicuro Quello è sicuro, sì Smoke and mirror Però non lo so, ti giuro Non ne ho idea Azzurre? No Verdi Allora verdi Eh, non lo sapevo Vabbè, ne ho sbagliato uno Mazzo numero 4 Numero 4? Boh, non so Penso che sia Facilito Ok Knock No Cosa? Non so Non ne ho Che mazzo è? Aspetta Aspetta Eh Knock Sono le knock Di plastica Aspetta No, qua c'è un bollino C'è un bollino qua? Sì Dov'è? Qua? C'entro Che mazzo è che ha un bollino lì? Aspetta Plastica Ok Eh, come faccio a riconoscerle da qua? È plastica Aspetta È squisite Eh, che cazzo Eh, c'hanno la stella qua, zio Eh sì Anche questa Vai, altre Queste Famose Ultimamente Famosi ultimamente? Sì Oddio, ma cos'è sta roba? Cartone Adesso magari sto offendendo qualcuno È cartone Ma questo è un mazzo di prova Non è un mazzo originale Non può essere Non è così la scatola Non può essere di un mazzo normale Aspetta, che belle però Stra belle Eh, non so Mi verrebbe da dire Non lo so, ti giuro Però ultimamente Sono colorate No, non tanto Non tanto Ma non può essere che la scatola sia così No, da questo è impossibile Aspetta, dai Io Eh Sono un misto plastica E misto tela Non ne ho idea Te lo dico io Mi arrendo Vai Le odissei Le odissei Vabbè Eh, vabbè, scusate Non lo sapevo Sono tipo azzurre però Sono azzurre? Ma aspetta Queste sono Sono bianche Sì Ah, ok Ecco perché della scatolina Perché? Perché la versione di prova questa Eh, o meno Non lo sapevo Ah, ok Mi sembrava strano Che un mazzo avesse fatto così schifo La scatola Ok, ok Odissei Vabbè, ho sbagliato raga Scusate Questo sarà molto difficile Per essere indovini Allora, aspetta che mostriamo È difficile? Sì No, forse indovini la prima parte La seconda parte Però se ne indovini sei un mostro Cosa vuol dire la seconda parte? Ma è chiuso? È chiuso, sì È chiuso E dov'è l'apertura? Aspetta Ok, qua Aspetta, al bollino? Sì Ho fatto un guaio? No Aspetta, forse sì Ho distrutto Aspetta È un bollino bicycle questo? Sì Ok Mazzi bicycle che ho chiusi Aspetta Madonna che dure Non c'è niente in rilievo Non lo so Aspetta, aspetta, aspetta Sono stra dure Ma è tela? Sono stra dure Queste Te lo dico io cosa sono Sono le Dragonback Sì Sì? Mi hai deluso Come ti ho deluso? Perché ce l'hai fatta Io speravo di E ti dirò di più Perché l'unico mazzo delle Dragonback Che ho chiuso Che in questo caso è aperto Sono le gialle Sì Meno male che Hai aperto questo Che fanno abbastanza schifo Bene Mazzo aperto? Sì Ok Dov'è? Qua C'è niente in rilievo, no? Non mi pare Aspetta Un cerchio tipo? Sì Questa è Tela Sì Stra rigide però Roba da cardistry questa Roba da cardistry? Così No dai Sì è roba da cardistry Allora le fontaine non sono perché non hanno il cosino qua Quindi o sono le O sono le Saturn O sono No, sono le Saturn Sì Sì? Eh però non so di che colore Gialle Gialle Ah ok Perché ce le ho anche rosse Ce le ho Tutte quante Veramente? No No hanno sbagliato una mi pare Forse una Zio ma tu stai parlando col Master Vai Altro mazzo chiuso Sì Ah questo non è bicycle No non è bicycle Cacchio che dura Spero non sia una costosa Oddio plastica Ti giuro Non ho mai provato una roba del genere Caspita sono stra rigide Cosa sono le Gemini? Le azzurre? No Gemini azzurre no? Caspita sono uguali alle Gemini Non ho la minima idea Le Delirium Delirium? Che roba è? Che mazzo è? Se non lo sai Che ce l'hai No aspetta mettilo da parte Non lo mai sentite Non lo mai provate ragazza Cos'è? Che colore sono? Verdi Verdi? Verdino Sì Verdolino Giardo verde Vabbè teniamo Questo curioso aspetta Ok non ho idea di cosa sia le Delirium Vai cos'è? Ultimo mazzo Però mi sei mezzo al tappetino Qua? Sì Vado Uh figo Questo Questo Posso già dirti che è David Blaine Non lo so Sinceramente non lo so Black Lions Sì sono le Black Lions Si sente subito da qua Si sente subito da qua Sono le Black Lions? Sì Porca Eva sono costose Dove è un po' Vabbè sono chiuse ancora Sono ancora chiuse Sono quelle nere vero? Sì Ok Sono le uniche che avevo chiuse Perfetto E con questo abbiamo finito? Sì abbiamo finito No ma aspetta Sono troppo curioso Ma che roba è questa? Non l'ho mai vista Non ho azzeccato soltanto queste Mi hai dato le gaff delle noc Le noc gaff mi hai dato Ma non ho la minima idea di che mazzo sia questo Queste saranno le nuove medaglie No a parte gli scherzi Per questo video regaliamo un mazzo di questi no? Per questo video regalo le bicycle Come si chiamano? Dragonback Le dragonback ok? Lasciate un commento qua sotto Quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Che vi abbia fatto divertire L'ignoranza c'è stata Esatto Lo indovinate tutte zio È meno due o tre Quindi ho vinto raga Non c'è nessuna sfida Sono troppo forte Troppo forte E se avete consigli per farne un'altra Con delle difficoltà in più Fatecelo sapere Questa era molto difficile Però sono io bravo Ok? C'è niente da fare E niente grazie Mauro per avermi aiutato a registrare E basta Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Sono chiuse? Sono chiuse? Sì Do aprile? Sì Eh grazie Oh cavolo Ah Aspetta Ah cavolo Questo è un bollino Non bicycle Non sono bicycle standard? No è plastica questa No no Non sono standard È plastica Sono comuni? Ah ok È da una vita che non provo una roba del genere Che cos'è? Aspetta Non è plasticoso Non c'è niente sul dorso Non lo so Mi arrendo Non ne ho idea Mille uno aladin Le aladin Cavolo Hai aperto le aladin? Hai fatto aprirle aladin? Sì Porca Eva Vabbè Sono pastose? Eh un po' Vabbè dai Fa niente Sono pastose Sono smooth finish queste Sono rare Aspetta No dai C'è scritto smooth finish Vabbè Qui costeranno 20 euro Vabbè Scialla